Questo giro vi sorprendo! Eccomi in modalità Pagella NBA con la lavagnetta un po' modificata, ditemi poi se è meglio così o come era prima. In ogni caso siamo qui per la quarta edizione delle Pagella NBA. Tante, tante, tante sorprese ci sta riservando questa stagione e ovviamente, come conseguenza, tante, tante, tante sorprese vi riserverà questa rubrica. Se siete pronti ragazzi, partiamo! AtGuard, la barba più cattiva del selvaggio West dai Brooklyn Nets, James Harden. Sì, nella prima edizione di queste stesse Pagelle l'ho messo dietro la lavagna. Nella quarta si è ripreso il suo posto in quintetto. Sarò sincero, non gli avrei dato un soldo di caccio ed invece ai Nets si è messo a fare il Playmaker. E che cazzo di Playmaker! Più di 12 Assis di media. Se riprendesse anche a difendere qui, possiamo tranquillamente chiudere tutto e andare oltre. AtGuard! Il giocatore dato per finito da tutti nella franchigia data per finita da tutti e con il coach dato per finito da tutti dai vostri San Antonio Spurs, De Mar, De Rosan. I San Antonio Spurs sono quarti a ovest. Quarti. Cioè, scusate, lo ridico. I San Antonio Spurs sono quarti a ovest. E De Rosan sta giocando il miglior basket della sua carriera. De Mar caro. Sono anni che ti diciamo che devi fare un passetto indietro e finalmente ci hai ascoltato e lo hai fatto. Non lo vedi come si sta meglio? At Forward! Il vecchio di merda from the Lakers, LeBron, Raymond, James. E come non inserirlo? Cioè, è alla prima apparizione in questa speciale rubrica. Ma più di farci video, di parlarne costantemente, di elevarlo a divinità, non so veramente che altro fare. I Lakers, a dire la verità, sono un leggero calo, ma lui non salta una partita che sia una. È quello che sta meglio e meritava di fatto il posto in quintetto per questa settimana. Punto. At Forward! Da quarto violino a secondo violino della migliore squadra NBA dai Philadelphia 76ers, Tobias, Harris e poi Bo. Bisogniamo mandare via Orford per far esplodere questo qui. Un giocatore di una concretezza disarmante, con un'infinità di armi offensive, con un mismatch fisico fisso contro tutti i piccoli avversari. Uno dei tanti giocatori del sottobosco NBA dal potenziale enorme che finalmente è esploso quest'anno. Settimana da star. Condita da un succulento buzzer beater contro i Los Angeles Lakers. At Center! Il contratto più indecente della storia. L'odiato amicone di Shaq? Dai vostri Utah Jazz, Rudy. Go Bear! E come non mettere il perno difensivo della squadra col miglior record ad ovest? Undici vittorie consecutive, difensivamente impenetrabili ed offensivamente, signori. Sta giocando molto bene. Sarà una settimana da dio? Lo speriamo realmente tutti, perché se dovesse continuare così potrebbe diventare molto ostico da affrontare anche in postseason. E poi Rudy, ho un tatuaggio che non vorrei farmi in ballo, quindi non dico di farti male, ma quantomeno, ecco, fai peggio di così. Head coach di questa squadra per la seconda settimana di fila in questa rubrica, Quinn Snyder. Sempre dagli Utah Jazz. Come fai a non mettere un allenatore che non perde una partita da due settimane? Penso di aver detto tutto. Giocano bene, hanno un'organizzazione difensiva spettacolosa ed è riuscito ad inserire pure Conley nei meccanismi. Meglio di così? E' impossibile. Sesto uomo, alla seconda perizione anche lui in questa rubrica, sempre dagli Utah Jazz, Jordan Clarkson. Il tatuatissimo Jordan sta facendo la differenza. Ennesimo prodotto del core Lakers degli ultimi anni di Kobe, con Randall, Ingram e di Angelo Russell. Pensate se fossero rimasti tutti insieme ai Lakers. Magari non sotto quell'inetto di Luke Walton, ma comunque talento, ragazzi. Ce n'era parecchio. Al momento, oltre ad essere il sesto uomo di questa settimana, è chiaramente il sesto uomo dell'anno. Facile, facile. Primo panchinaro, il vostro inaspettato rookie dei New York Knicks, Emmanuel Quigley. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Come per Pritchard, con il mio follower Ray John Rondo, la stessa cosa è successa con Quigley. Questa volta i miei complimenti vanno a Silent, che da tempo in memore mi aveva scritto di tenere d'occhio il giovincello. Questa settimana è esploso letteralmente. Ora lo attende la continuità di rendimento e poi il posto in quintetto. Secondo panchinaro. In panchina questa settimana, altro rookie, che fino a settimana scorsa però era titolare. Dai Golden State Warriors, James Wiseman. Credo che a Golden State si siano accorti del talento, ma non abbiano ancora piena fiducia nel dargli il posto da titolare. Hanno capito probabilmente che dalla panchina, contro i secondi quintetti degli avversari, può dare di più. E probabilmente sembrare meno grezzo difensivamente. E lui ragazzi ricambia, con il career high da 25 punti e 15 punti di media. Cresci in fretta, James. Terzo panchinaro a rientro da un piccolo infortunio al nostro enfant du pays, dagli Atlanta Hawks, Danilo Gallinari. Dato di fatto, il Gallo torna e gli Hawks crescono. Ha giocato meno di 20 minuti a partita, ma molto meno. Siamo sotto i 17. Ma praticamente sempre in doppia cifra. L'efficienza offensiva di Danilo è impressionante. Lui torna e vincono tre delle ultime cinque, perdendo con i Nets all'overtime e con i Bucks sul finale. Ragazzi, voglio dare un voto di fiducia al Gallo. E infine, dietro la lavagna, senza ombra di dubbio, ci finisce Russell Westbrook. Andato agli Wizards, sembrava aver riacquistato il sorriso. Vi ricordate le prime immagini degli allenamenti? Quanto era felice. Tutti eravamo curiosi di vedere lui e Bradley Bill insieme. Risultato? Peggiore squadra dell'NBA. Percentuali pessime, statistiche più basse in carriera e fisicamente una pernacchia. E se arrastogli il fisico, che rimane? Eccoci qua. Ho terminato anche questa settimana le pagelle cosiddette ignoranti, comunque le pagelle NBA. Ditemi se siete d'accordo o meno usando i commenti a questo post. Vi ricordo di mettere un like per supportare il canale, iscrivetevi, state con me, aiutatemi a crescere, anche con consigli. Io sono qua che attendo. Ragazzi, un piacere, come sempre. Ci vediamo domenica prossima per le pagelle della prossima settimana. Ragazzi, buon weekend. Ciao! 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 Ciao!